Bella a tutti ragazzi sono Grazia Spear ed eccoci nella seconda parte di Pokemon Last King Continuiamo, per chi si è perso la prima parte lo invito a vederla Perché altrimenti non capirete molto della trama Come vedete qui non si può ancora passare, vedete è ancora tutto bloccato Quindi l'unica cosa che ci resta è uscire dal castello Ora scusate se velocizzo un po' però purtroppo non abbiamo ancora le scarpe da corsa Quindi preferisco velocizzare un attimo ciò che ha saputo da mia madre mi ha scosso Non posso permettermi di abbandonare la missione, devo trovare il capo palestra di Levantopoli e sconfiggerlo Bene, e qui siamo a Levantopoli dove sono finamenti orientali Ci c'è che dobbiamo trovare il capo palestra, questa porta è chiusa, ok Invece si può entrare, parliamo a questa bambina Vivo da poco a Levantopoli ma già l'adoro, ok Scusate Allora Parliamo a questo tizio E allenatore potrei chiederti un favore? La scorsa notte ho trovato un pokemon l'ha abbandonato, purtroppo non posso tenerlo Lo prenderesti con te? Yes Hai tenuto Squirtle, wow Questo tizio ci dà uno Squirtle così Random Abbi cura di questo pokemon, ottima cosa davvero Vediamo Info Squirtle Adamant Nature, non so cosa vuol dire Adamant Torrent Ok, aumenta No, cos'è? Ups, water, moves in a pinch Boh, non so Mi sembra aumenta le mosse di un po' acqua Quando piove Azione colpo coda Come se lo prendessimo come starter La porta è chiusa Ok, andiamo da questa parte Qui abbiamo già provato Qui c'è un agente Levantopoli è il posto perfetto per un poliziotto Qui il crimine è praticamente assente Giusto? Cioè, giusto, boh, non lo so io Quanto vorrei avere il permesso di andare nel bosco girandola Quel posto pubblica di pokemon con le ottero Che sonno Devo avere esagerato con i piatti preparati da spighetto Sembra sorte nei suoi pensieri Meglio non disturbarla Ok, quindi qui in questa città c'è spighetto come capopalestra Quanto ho capito Vediamo qui Ogni palestra di pokemon di unima è unica Ma la mia preferita rimane quella di questa città Si dice che i fondatori di Levantopoli venissero dalle montagne Per questo motivo le porte delle case hanno dei gradini da neve Per ricordare i nostri fondatori Ok Sono allenatore vero L'ho capito dalle pokeball che ha la cintura E da quando uscite dal castello del Del team plasma Potete comprare delle pokeball Potete comprarle anche alla prima città che avete visitato Non è necessario unire qui Se non sbaglio Quando io e i miei pokemon saremo più forti Vorrei visitare altre regioni Levantopoli è stata a lungo senza capolestra Prima che spighetto rilevasse quel ruolo Ogni tanto però sparisce dalla città E nessuno sa dove va Allora Uff, mia moglie continua a chiedermi Di darle il permesso di partire per il suo viaggio nella regione Ai miei tempi non partiamo così giovani Ok Usciamo E direi di qui non c'è nulla C'è questa bambina Ho un detto popolare di Levantopoli Dice che non serve a niente rifugiarsi nei sogni E dimenticarsi di vivere È una bella frase no? Sì è vero E qui Si entra nella palestra Questa palestra sarà anche un ristorante Dico sarà perché ci sono anche parecchi lavori da fare Ragione per cui al momento non ci sono clienti Comunque spighetto è un capo palestra molto capace Malgrado sia giovane Bene Questo credo sia il primo allenatore della palestra Infatti Non ti permetterà di raggiungere spighetto Perché sei così cattivo? Povero N Appena subito un dramma familiare Wow A livello 8 Vedete come la difficoltà è davvero aumentata Ma io non avevo curato i pokemon Perché in seguimento ho così pochi pipi Ok Dopo questa battaglia vado a curarlo Altrimenti non ne usciamo più Ho pip Ho pip Beh mi sembra che Sa usare solo splash Se non sbaglio Eccolo Eccolo L'immancabile splash Avanti Su Ecco fatto Uh passa pure Sì non avevo bisogno del tuo permesso per passare Eh Vado a curarmi velocemente i pokemon Anche a me sembrava di averli già curati Però Boh Allora Avanti E rientrano nella palestra Ecco qua il secondo allenatore Credo Ecco Alto là Il sudore Allora Pidav Pursuit Eh no 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 Questa cosa si sta preparando per una mossa Quindi Ecco Skatak Come fa ad avere Skatak Il Pidav È una mossa molto potente Se non sbaglio Sì è una mossa potentissima È Skatak Ecco Sangui su gun che è super efficace Su contro Zorua Eh mi paralizza anche Lo stronzo Mi abbasserà la difesa Cosa vuoi La vita O il sangue Prendi il sangue No Gioltik di merda E impara Fake Tears Che se non sbaglio Non toglie nulla Eh Torniamo un'altra volta A curarci i Pokémon Sì lo so che è un po' Noioso vedere uno che Continua a curarsi i Pokémon Però Ma hanno ucciso Squirtle Ma hanno ucciso Quasi Zorua Cioè non è che Cioè La difficoltà Mi sembra giusta Mi sembra giusta In questo modo Eh le eccoci qua Salve sfidante Il mio nome è Spighetto E sono il capopalestra Di Levantopoli Preparati ad assistere Ad una lotta Da veri intenditori Combatti Bene sono curioso Di vedere Qual è La difficoltà Di questo capopalestra Vediamo un po' Bulbasaur A livello 10 Wow Spero non si metta A usare palazzi Semi o mosse Di merda Come Ecco Beh Addio Va avanti No Che stronzo Però che è lui Che usa le pozioni Lo uso anch'io Cioè non è che Solo lui può Usare le pozioni Eh Avanti No Me l'ha ucciso Eh ciao Squirtle Addio Ecco Che bello Sono stato già battuto Ecco No basta Non voglio procurare i pokemon Vabbè Riproviamoci Che devo dire Comunque vedete È abbastanza Difficile Come rom Avanti Eh Bulbasaur E se non sbaglio Dopo ha anche un altro pokemon Merda 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 Un altro pokemon Primo scratch E Pursuit Pursuit Eh ciao Avanti Take all Eh Addio Basta Sono stato umiliato Troppo Sono stato troppo umiliato Per questa parte Basta Non voglio procurare i pokemon Eh Direi Dato che È un po' troppo difficile Combattere contro quel pokemon Fosse andare qui Ad allenare un po' i pokemon Questa è un allenatrice Vedi lo nuotatore Che si sta allenando nel lago Lo nuotatore Su serio Eh Per favore Correggete anche questo Cioè So che un errore può scappare Però Si allena ogni giorno 7 ore Mi chiedo come faccia Ehi lo nuotatore Parlami Stupido Allora Poi provare ad andare da questa parte Se ci sono degli allenatori Da battere Cosa Altimplasma È stata avvistata A Zefiropol Mandate subito A una pattuglia Sul luogo Certamente Questo è il mio territorio Smamma Non ci penso nemmeno Dato che devo andare avanti Nella storia Comunque la palestra Non preoccupatevi La lascio indietro Ma solo per un attimo Eh Non è che Cioè Appena Zorua diventa Un pochettino più forte Vado e la sconfiggo Però adesso però Preferisco allenarlo un po' qua Pursuit Ecco Eh Usiamo Un antidoto Vedete anche un semplice allenatore Vi mette in difficoltà E questo a me piace Perché bisogna essere un po' più tattici Ecco Non si può andare così Allo sbaraglio Usare sempre Lanciafiamme O qualche E battere tutti Bene Kakuna Si può battere tranquillamente E ci fa Salire di livello A livello 10 Combi Wow Bello Combi Si Dai Gast Scratch Bene Un cricketot Fursuit Eh va bene Usa pazienza Ma tanto ti uccido prima Bene Continuiamo da questa parte Eh Vediamo Qui sopra Cosa c'è Un nonnetto Vedi questo boschetto È il centro Di un ambizioso progetto Che dovrebbe portare La costruzione Di un asilo E di una pensione Pokémon Ah quindi Tu stai spettando La pensione Pokémon Immagino Eh salve Ah sono allenatrice La mia classe Ti annienterà No per favore Dai Di alla tua classe Non annientarmi Allora Scratch E Pursuit Bene Un beat off Pursuit Che ricordo È in seguimento Per chi Non l'avesse capito Bene Guardiamo questa tizia Qui c'è una bambina Adoro questo posto Non dà anche a te Un senso di profonda Tranquillità Ma si Non è male Le mappe Non sono male Eh Le mappe Sono fatte anche Abbastanza bene Gli abitanti di Levantopoli Mi chiamano il saggio Vedo che il tuo cuore è turbato Permettimi di farti un regalo Sì ma cosa mi hai regalato Un Charmander Porca vacca Trattelo bene Mi raccomando Wow Abbiamo un Charmander Così A A scrocco Vediamolo Allora Charmander Questo rom Mi sta piacendo Anche solo dei pokemon Che ti danno Cioè Non male Altura calma Scratch E grow Perfetto Come Come squirtle Come se lo prendessimo Tranquillamente Questo bimbo Che cosa fa qua A quanto parli Non c'è modo Di raggiungere Dei filopoli La città Si circondasse La polizia Ok Veniped Run Via Salve Ciao benvenuto All'agenzia viaggi Vespicon Vuoi usufruire Dei nostri servizi Mi dispiace Ma non puoi usufruire Dei nostri servizi Perché non vincere Almeno la prima medaglia Ah ok Quindi Noi dobbiamo vincere La prima medaglia Per Per usufruire Dei servizi Di Vespicon Che bello Gotita Bello Non sapevo Si potesse Incontrare qui Proviamo a catturarlo Pocobol N Usa Pocobol Avanti Gotita Gotita Bene Preso Gotita Comunque Guardate Qui I pokemon Sono a livello 7 Selvatici E il capopalestra Il pokemon A livello 10 Se riuscisse A trovare Un pokemon Tipo volante Un pokemon Tipo volante Potrei anche Riuscire Ad utilizzarlo Alla palestra E battere Così Il Il capopalestra Dobbiamo Dobbiamo usare Pursuit Anche se Eh L'ho ucciso Vabbè Meglio lui Che me Un pdav Pursuit Oh Critico Lit Wow Bene Scusate se ve lo ucciso Comunque guardate Quando cammina N in avanti Boh Mi sembra Da uno strano effetto Cioè Quando cammina Di profilo È normale Ma quando tipo cammina Anche quando cammina Di spalle Ma quando cammina davanti Boh Sembra tipo che Che salta Comunque Curiamo i pokemon E dai Avanti E Dai Io proverai a battere Di nuovo La palestra Di spighetto Qua Ecco qua Vai avanti Stavolta però Dobbiamo battere La palestra Su Ora che ho Anche No 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 Nuovi pokemon Pensavo di averli cattuto Wow Not bad Bene bene Cambiamo Dato che Parassissime Andiamo Charmander A farsi sacrificare Ritorno Vai grande Usa scratch Bene E ora mandiamo Zorwa A livello 11 Pursuit E Pursuit Bene Abbiamo sconfitto Il capoprestra Sfighetto È stata una lotta Eccezionale E con grande piacere Che ti consiglio La medaglia trio E vinciamo 1100 È stata una bella Lotta Permettiti Darti la medaglia E un dono E MT27 Buona fortuna Per il tuo viaggio In ogni caso Grazie alla tua vittoria Puoi utilizzare Il servizio viaggi Vespiquen Dal percorso 3 La MT27 Contiene Ritorno Quella ragazza Che ho sconfitto 420 Assomigliava A lei No devo togliermela Dalla testa Ho bisogno di riflettere Con calma Magari il servizio viaggi Ha menzionato Che la polestra Può portarmi A sciroccopoli Vedete anche Che c'è tipo Un dissidio interiore Di N Che Vuole ricordare La ragazza Che Credo Abbiamo incontrato 3 anni fa Però vuole anche Dimenticarsene A me piacciono Queste cose C'è la trama Di pokemon Che si fa un po' Più complessa Non la solita trama Vai Batti la palestra E vinci La lega Cioè Davvero Una bella cosa Ho fatto davvero Una Una cosa Molto Molto Intelligente Nel senso Riesco a One shotarlo No Per questo Tu devi morire Cioè Devi essere catturato Stupido Pidav Bene Abbiamo catturato Anche un Pidav Così A scrocco E Ora possiamo utilizzare Il servizio viaggi Ciao Benvenuto All'agenzia viaggi Vespicua Vuole usufruire Dei nostri servizi Yes Per il momento La nostra unica destinazione È Scirocopoli Vuole raggiungerla Yes Siamo in partenza In un attimo Saremo a destinazione E siamo a Scirocopoli Qui c'è la coda Per qualcosa Lì non si può entrare Qui sotto Non si può entrare La bambina Qua cosa dice Ogni volta che ne ho La possibilità Faccio un giro sulla ruota È bellissimo Vedere il panorama Lassù Scusate Ah si Scirocopoli Se non sbaglio È la città In cui La nostra storia Ha avuto inizio Quella di tre anni fa Dove dicevano Che erano sulla ruota E stavano guardando Il Il tramonto Ah ma quella Non è una ragazza Che ho sconfitto A 420 Cosa starà facendo qui Scusate Andrebbe di salire Sulla ruota con me Va bene Va tutto bene Non conosco ancora il tuo nome N Mi chiamo N Io mi chiamo Iris Secondo te Iris Quanti pokemon esistono Non saprei Perché me lo chiedi Ora vai È troppo rischio Per entrambi Farci vedere insieme E ora Devo riuscire a trovare Un modo di tornare Al castello Plasma Senza restare Sospetto di mio padre Mi hai tradito Avevi detto Che non sarebbe Esistito Nessun altro Per te Chi sei Elia Elia Rispondimi Sei tu Cosa Cosa era quella visione Nel frattempo Al castello Plasma Dovrebbero essere qui a momenti Per fare rapporto Mostratevi I miei servitori Oh La trama che si fa sempre più bella E interessante Mi piace Abbiamo tenuto l'occhio al principe Come la sua ordine Cosa avete scoperto? Dopo aver ottenuto la prima medaglia Il principe ha raggiunto Scirocopoli Siamo riusciti a vederlo Mentre erano atteggiamenti sospetti Con una giovane allenatrice Potrebbe andare ora Potete andare ora Continuate a seguirlo E così mio figlio Si vede di nuovo Con una ragazza A quanto pare Non è bastato Toglierne di mezzo una Oh Colpo di scena Pokémon Last King Beta 1 Credits Wesley FG Kilodav Kalis Project Gaia Project Steven Skarex Segesi E Zitovski Un grazie speciale Va inoltre al mio team Che mi ha sempre supportato Siete migliori Il gioco riprenderai Dal percorso 3 Potrai raggiungere Scirocopoli E ripeterai il finale Del gioco Ogni volta che vorrai Vedete La beta Finisce qui Se voi Rifate la cosa Dei viaggi di Wespiquen E andate La ruota panoramica Vi ripeterà la stessa cosa E vi rifarà tornare qua Che dire È un acrom Che mi incuriosisce Molto Se non sbaglio Fatta da un italiano Si Fatta da un italiano E È quasi Tutta in italiano Cioè I dialoghi Quello che conta Sono in italiano Poi Anche se Gli attacchi O Le frasi fatte Come hai vinto La medaglia Blah 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 Sono in inglese A me sta anche bene E Aspetto La beta 2 Credo Che Aggiungerà Il proseguo Del gioco E Davvero Molto bella Bravi complimenti Una trama interessante La cosa che mi incuriosisce Di più È la trama A questo punto E Io il video finisce qui Vi ricordo di mettere Mi piace E commentare E di iscrivervi Da Glaciaspira Tutto Al prossimo video Grazie a tutti